Ciao a tutti, buonasera, oggi parliamo di SIBO. Che cos'è la SIBO e come si cura? E' importante parlare di SIBO perché sempre più persone mi scrivono e sempre più persone soffrono di problemi dell'intestino, di dolori, crampi addominali e di quella che viene chiamata sindrome dell'intestino irritabile. E poiché almeno l'85% dei casi di sindrome dell'intestino irritabile o IBS ha una causa sottostante di SIBO, è importante capire che cos'è la SIBO. La SIBO dall'inglese vuol dire Small Intestine Bacterial Overgrowth, ossia una crescita, una condizione, una crescita eccessiva di batteri nel piccolo intestino, che è l'intestino tenue, dove non dovrebbero starci. E' una condizione di salute ancora poco conosciuta e sottostimata ma capace per chi ne soffre e per chi soffre comunque anche di sindrome dell'intestino irritabile di rovinare veramente la vita perché causa dei sintomi poco poco piacevoli. E tra l'altro la SIBO è anche causa di molti altri problemi di salute e disturbi. Cerchiamo di chiarire quindi che cos'è la SIBO. La SIBO è appunto una crescita eccessiva e anomala di batteri nell'intestino tenue, che è chiamato anche piccolo intestino. Mentre i batteri si trovano in gran numero nell'intestino crasso o nel grande intestino, nella SIBO questi batteri si spostano dove non dovrebbero stare, ossia nel tenue, che dovrebbe contenere un numero molto limitato di batteri. Colonizzano quindi l'intestino tenue causando problemi. Questi batteri infatti fermentano i carboidrati in gas idrogeno che producono gas metano. Chi soffre di SIBO, i malati di SIBO, sono divisi di solito in tre categorie distinte ma tutti e tre hanno in comune dei sintomi quali gonfiore e tensione addominale. E difficilmente vengono diagnosticati perché dalla medicina convenzionale è veramente ancora molto stimata, mentre nella medicina naturopatica si studia e si parla di SIBO da molti molti anni. Nelle tre categorie preponderanti ci può essere o diarrea predominante o stitichezza predominante o alternanza di entrambe. La SIBO con diarrea dominante è la forma forse più comune ed è il risultato di quei batteri che fermentano che producono gas idrogeno nell'intestino tenue. Questa eccessiva produzione di idrogeno nell'intestino tenue è la causa del gonfiore addominale e della diarrea. Nella SIBO con predominanza di stitichezza non sono i batteri ma organismi unicellulari chiamati archea che producono metano e causano stitichezza. Gli archea si nutrono dell'idrogeno prodotto dai batteri durante la fermentazione dei carboidrati e producono metano. Come per l'idrogeno anche il metano causerà gonfiore addominale e rallenta il tempo di transito portando quindi alla stitichezza. Questa è la SIBO più difficile da trattare perché il metano rallenta il transito intestinale provocando stitichezza e la stitichezza causa maggiore crescita e batterica il che provoca ancora più metano e più stitichezza in un circolo che si autoalimenta. Come se non bastasse gli archea sono più difficili di trattare con gli antibiotici e con gli antimicrotici. In parole semplici sono più dure a morire. La terza variante di SIBO è meno comune e vede batteri che producono solfuro di idrogeno e gas che puzza di uovo marcio. Sebbene sia meno comune è anche quella appunto più difficile da trattare e risulta spesso negativa ai test, breed test che si fanno per la SIBO. Quindi test tradizionali del respiro. In questo tipo di SIBO i batteri nell'intestino tenue producono questo acido solfidrico che è un gas altamente tossico per le cellule della parete intestinale e ha questo caratteristico odore che purtroppo molti di voi conosceranno che è l'odore di uova marce. Questi batteri consumano anche idrogeno e competono con gli archea metanogenici quindi l'uccisione di una sola specie può consentire all'altra di crescere ancora di più. I sintomi della SIBO. Quali sono i sintomi della SIBO? Sono molto simili a quelli della sindrome dell'intestino irritabile o IBS e la ragione è che almeno un 85% dei casi di IBS irritable bowel syndrome o sindrome dell'intestino irritabile è causato appunto dalla SIBO. Il sintomo più frequente e comune a tutti i malati di SIBO è come ho detto prima il gonfiore e la tensione addominale. Il gonfiore addominale si verifica di solito dai 5 ai 60 minuti dopo avere mangiato ma ci sono anche altri sintomi che comprendono diarrea o stitichezza, croniche o alternanza di tutte e due, reflusso o eruttazione dopo i pasti, gas maleodorante, gorgoglio di stomaco, crampi addominali. Ci sono poi altri sintomi che non sono addominali però sono causati dalla SIBO, tra questi la sindrome delle gambe senza riposo soprattutto quando si va a letto e non si riesce a tenere ferme le gambe, dolori articolari, instabilità dell'umore, intolleranze alimentari, asma, acre, problemi di memoria e nebbia cerebrale presenti anche nella fibromialgia e perché dico fibromialgia? Perché anche la fibromialgia spessa una causa sottostante di SIBO, carenza di ferro di vitamina B12, aumento o perdita di peso, difficoltà a dormire. Un indizio della SIBO è che le fibre e i probiotici se le assumi ti fanno di solito sentire peggio e non meglio come si penserebbe. I problemi di salute che crea la SIBO, oltre ai sintomi citati la SIBO causa un malassorbimento di vitamine e di molte vitamine e molte sostanze nutrienti vitali, infatti quando si trovano nelle analisi anche delle leggere carenze di nutrienti sarebbe importante indagare soprattutto se vi sono concomitanti problemi addominali o sintomi dei quali non si trova causa e inoltre causa danni anche alla mucosa intestinale e alla permeabilità intestinale che viene danneggiata dalla tossicità causata dai batteri o anche perché i batteri assorbono i nutrienti prima delle tue stesse cellule. In particolare assorbono vitamine come la vitamina B12 e minerali come magnesio, ferro e calcio e spesso possono consumare anche aminoacidi che prendono dalle proteine che al tuo corpo servirebbero, dalle proteine che mangi. La malnutrizione è infatti una delle spie di SIBO, ragione per cui cerco sempre di indagare a fronte appunto di sintomi intestinali e carenze di nutrienti se vi è presenza di SIBO. Nella SIBO che abbiamo visto invece è più difficile da trattare dove c'è alternanza di diarrea e stitichezza, i metanogeni che causano stitichezza sono associati all'obesità e all'amento di peso e questo attenzione quindi quando non riuscite a perdere peso anche se vi sembra o mangiate realmente poco a causa del ralentamento del tratto intestinale. Come si protegge il nostro corpo? La base della naturopatia come sapete spesso dico per chi mi segue, chi mi segue sa, è che il corpo ha le capacità in sé per autoguarirsi quindi il corpo dovrebbe avere tutti i sistemi per combattere le malattie quindi sicuramente ha dei sistemi anche per proteggere della SIBO. Sì, il corpo infatti ha diversi sistemi di protezione per evitare la colonizzazione dell'intestino tenue e di batteri archei tra cui la secrezione di acido nello stomaco che uccide batteri cattivi prima che entrino nell'intestino tenue. Due, la secrezione della bile che viene prodotta nel pegato e rilasciata nel tenue, la bile protegge anche lei dai batteri nocivi e l'MMC ossia l'attività muscolare della parete del tenue, la parete dell'intestino tenue che si verifica ogni circa 90-120 minuti tipicamente tra i pasti e che sposta i batteri e i rifiuti indesiderati attraverso il tratto digestivo e al colon, differente dalla peristalsi che si verifica invece nell'intestino crasso. Abbiamo il sistema immunitario poi, le immunoglobuline dell'intestino tenue agiscono come anticorpi per combattere batteri e altri agenti patogeni. Poi abbiamo la valvola iliocecale che è una valvola che impedisce ai batteri di rifluire nell'intestino tenue. Se si ha la SIBO però è evidente che qualcuno di questi sistemi non funziona, c'è un problema nelle protezioni del corpo, in questi sistemi che ci difendono. Ci sono molte cause di SIBO e fino tenue. Se si ha la SIBO però è evidente che qualcuno di questi sistemi non funziona, c'è un problema nelle protezioni del corpo, in questi sistemi che ci difendono. Ci sono molte cause di SIBO e vanno sempre indagate, tuttavia possono essere raggruppate di solito in tre categorie primarie. Il danno alla motilità, MMC si chiama, la motilità dell'intestino tenue che è diversa dalla peristalsi, il danno strutturale e il danno funzionale. Nel primo caso, nel danno della motilità, i batteri non vengono eliminati correttamente dall'intestino tenue e questo può verificarsi, per esempio, se si ha una gastroenterite causata da un parassita, batteri, lieviti, accade quando c'è sclerodermia, nella malattia di Lyme, se c'è infiammazione intestinale, diabete, ipotiroidismo, se si fa un uso ricorrente di antibiotici, se ci sono lesioni a causa di interventi chirurgici o disfunzioni del sistema nervoso. Nel secondo caso, si può avere un cambiamento anatomico che può causare il blocco della clearance batterica all'interno dell'intestino tenue e consentire quindi la migrazione dei batteri dal crasso al tenue, quindi dal grande al piccolo intestino. Questo può avvenire per diverse ragioni, adesioni o istruzioni a causa di interventi chirurgici, stenosi da malattia infiammatoria intestinale, compromissione della valvola iliocecale, cancro e altre problematiche. In questo caso la funzione del corpo è alterata e i batteri non vengono uccisi nello stomaco o non l'intestino tenue come dovrebbe accadere. Questo può avvenire a causa di flusso biliare alterato, farmaci come attenzione perché se ne fa un uso larghissimo inibitori della pompa protonica che vengono chiamati protettori gastrici e non proteggono ma alterano il funzionamento, alterano un certo tipo di funzionamento, immunodeficienza in effetti la SIBO è molto correlata all'uso degli inibitori di pompa protonica che conoscerete, che magari vi hanno dato per il flusso gastroesofageo e che conoscerete come protettori gastrici. Immunodeficienza, leaky gut che è una condizione di cui parleremo e che crea un danno alle pareti dell'intestino tenue. In molti casi la SIBO può essere post-infettiva anche la maggior parte dei casi. Chi ama viaggiare, è stato in Africa o in paesi esotici, potrà ricordare magari prima che gli siano scatenati questi problemi all'intestino, la sindrome del colon irritabile o magari delle patologie anche autoimmuni, un episodio di gastroenterite acuta. Avete ricordo in qualche viaggio, per esempio, di aver avuto un'intossicazione alimentare. Una volta che hai avuto una gastroenterite infettiva da salmonella, scherichia coli, scighella o altro, il rischio di contrarre la SIBO e la sindrome dell'intestino irritabile aumenta fino a sei volte. Perché è necessario trattare le cause della SIBO? Sapete che noi naturopati siamo fissati, ma perché eradicare il sintomo non vuol dire eradicare le cause, eradicare il sintomo è una finta guarigione e non dico che non è importante eradicare anche il sintomo, ma se non eradichi le cause non sei guarito, non hai cambiato in realtà niente. È come avere un gatto in casa che ti fa sempre sul tappeto perché lo fai entrare magari in salotto, ora faccio un esempio proprio banale, o impedisci al gatto di entrare in salotto o continuerà a farla. Quindi se non elimini le cause, non dico di ammazzare il gatto, adoro gli animali, però se non elimini le cause non puoi considerarti veramente guarito. La SIBO tra l'altro è fortemente associata a fenomeni di recidive, quindi tende a tornare, recidive croniche, perché uccidere i batteri è molto difficile, può essere difficile e uccidere i batteri stessi non risolve il problema perché non è detto che sia necessariamente la causa principale del motivo per cui si ha la SIBO, soprattutto se permangono condizioni di stitichezza, per esempio causate magari da intolleranze alimentari che vanno verificate, alimentazione errata, se non si cambia lo stile di vita o altro. Sintetizzando, se stai male, soprattutto se hai sintomi che non spariscono e se hai la sindrome del colon irritabile e vuoi sapere se hai la SIBO, dovrai fare un test specifico e successivamente anche attuare un protocollo di trattamento che funziona davvero e che non sia fatto esclusivamente da un ciclo di antibiotici senza che si prevedano dei cambiamenti dello stile di vita, per eradicare cause recidive. La medicina naturopatica ha protocolli efficienti per la SIBO perché da molti anni ne parliamo e la studiamo, visto che la salute del intestino è uno dei pilastri della medicina naturale, della naturopatia. Mentre è arrivata, come dicevo, da poco all'attenzione della medicina convenzionale da tempi relativamente brevi e pochi ancora sanno che cos'è e soprattutto come trattarla, in più è anche poco diagnosticata. Il mio approccio alla SIBO, come lavoro con chi soffre di SIBO, da dove comincio? Il mio protocollo di trattamento per la SIBO è diviso in quattro fasi. Nella fase 1, l'alimentazione. L'alimentazione è importantissima e dobbiamo apportare delle modifiche alimentari se vogliamo ridurre i sintomi rapidamente. I sintomi vanno ridotti perché sono molto fastidiosi e chi ne soffre lo sa. Dobbiamo impedire la crescita eccessiva di batteri allo stesso tempo e lo facciamo attraverso un trattamento a base di erbe naturali. Io non uso gli antibiotici per questo problema. supporto della digestione e disintossicazione fondamentali e ricostruzione della parete intestinale che viene danneggiata. In ultima fase ci sarà la reintroduzione di prebiotici, quindi fibre e probiotici, che non sono indicati o sono contrari all'uso di probiotici se vi è certezza di SIBO, a meno che non sia poi ogni caso e diverso dall'altro, per cui come sempre parlo in linea molto generale. Dopo aver fatto tutti i test che servono a verificare se vi è presenza di SIBO e che servono anche per darci informazioni in più rispetto alla salute, si inizia, di solito inizio io con un piano alimentare che aiuti a tenere sotto controllo i sintomi. attenzione alle diete che eliminano alimenti per troppo tempo perché non guariscono le cause della SIBO, quindi diffidate da tutti coloro che vi tolgono a vita degli alimenti anche se possono ovviamente migliorare i sintomi. Al primo posto quindi mi concentro sulla riduzione dei sintomi, questo è importantissimo perché chi soffre vuole una soluzione alla sofferenza. quindi il paziente ha bisogno di trovare sollievo. Per ridurre, per fare questo dovremo ridurre dalla dieta la principale fonte dei batteri che crescono eccessivamente nell'intestino tenue e tra questi cibi ci sono i carboidrati fermentabili, tra cui l'amido, i fagioli, le verdure ad alto contenuto di amido, i cereali integrali, anche i semi, i legumi, le noci, la frutta, lo zucchero, i latticini, i dolcificanti e le fibre, tanta roba, lo so. Non per tutti sono gli stessi, ma non moriamo di fame, ci sono ancora tanti altri alimenti che si possono mangiare. La dieta sarà prevalentemente quindi costituita da cosa? Da proteine e grassi sani. Una dieta che utilizzo spesso è la Paleo Food Map, per ciascuno poi vanno individuate le specifiche sensibilità alimentari attraverso un test di intolleranza alimentari e la dieta sarà quindi sempre un qualcosa costruito su base individuale, come anche il protocollo, perché siamo tutti diversi, le cause possono essere diverse, ci possono essere delle suscettibilità e sensibilità alimentari diverse, quindi non esiste in naturopatia un trattamento che è uguale per tutti. Quello che vi dico anche oggi sono linee guida generali. Alcuni suggerimenti di carattere generali includono mangia più cibi cotti che crudi, anche frutta e verdura, se puoi cuoci anche la frutta e la verdura, mangia frutta matura perché la frutta cerba è ricca di amido, è resistente, che può causare sintomi, limita gli spuntini tra i pasti e fai passare almeno 4-5 ore prima di alimentarti di nuovo per dare all'intestino il tempo di spostare i residui degli batteri introdotti. Però in questo caso successivo i cibi fermentati aggravano i sintomi. Poi che cosa dobbiamo fare? In un'altra fase dobbiamo rimuovere la crescita eccessiva di batteri. Vogliamo togliere i sintomi e poi vogliamo rimuovere anche la crescita eccessiva di batteri che porta ai sintomi. Quindi una volta che la dieta, l'alimentazione è sotto controllo, il passo successivo è rimuovere questa crescita eccessiva di batteri. Questo si può fare con gli antibiotici o con gli antimicrobici a base naturale. Indovinate quali uso? Antimicrobici a base naturale che sono quelli a base di erbe e sono quelli che ovviamente suggerisco. Uno perché sono meno aggressivi e due perché gli studi clinici hanno dimostrato che sono efficaci altrettanto quanto gli antibiotici ma senza gli effetti collaterali degli antibiotici. A seconda dei batteri che dobbiamo uccidere uso sinergie di erbe diverse. Quindi anche qui ogni caso è diverso dall'altro. Quindi il protocollo è veramente davvero molto molto personalizzato. Le erbe antimicrobiche in più andrebbero ruotate perché il nostro organismo e anche i batteri che sono intelligenti si adattano facilmente e l'efficacia di una data erba se ripetuta continuamente potrebbe diminuire. Pertanto anche gli integratori a base di erbe vanno ruotati. Quanto dura un protocollo per l'eradicazione della SIBO? Un protocollo per l'eradicazione della SIBO dura all'incirca 60 giorni di solito ma se la proliferazione batterica è davvero eccessiva potrebbe essere necessario fare più cicli. Tra le erbe che utilizza questo scopo per uccidere i batteri ci sono la berberina, il neem, l'olio d'origano per la SIBO a dominanza di idrogeno e l'allicina, l'olio di rigano e il neem per la SIBO a dominanza di metano. Le altre erbe che utilizzo perché sono veramente tante e le utilizzo spesso in sinergia fra loro a seconda dei casi sono la cannella, il timo, il melograno, tutti integratori che funzionano molto bene anche in caso di candida per esempio. Se poi ci sono batteri o lieviti muffe da eliminare anche nell'intestino crasto, utilizzo miscele di erbe o integratori fatti da più principi attivi di erbe. Non posso fare nomi commerciali qui anche perché spesso oltre alla SIBO c'è da eradicare anche la SIFO. C'è che? Small intestinal fungal overgrowth overgrowth, ossia una crescita eccessiva di funghi all'interno dell'intestino teneo che è presente, attenzione, almeno nel 50% dei pazienti che hanno la SIBO. Un'altra opzione che utilizzo per pazienti resistenti agli antimicrobici o agli antibiotici come ultima spiaggia, perché è abbastanza difficile da sostenere però la consiglio per esempio a chi è obeso in sovrappeso, in quel caso ci aiuta anche a perdere peso ed è importante, è la SIBO Elemental Diet, una dieta che ha una forte evidenza clinica. In sintesi si tratta di bere dei nutrienti in polvere predigeriti che vengono mescolati con acqua e vanno rimosti tutti i cibi solidi per circa 2-3 settimane. Poiché i nutrienti in questa forma vengono assorbiti molto rapidamente, i batteri non hanno la possibilità di nutrirsi e usarli per proliferare. Come dicevo non è molto sostenibile da tutti, quindi la utilizzo veramente nei casi più gravi di SIBO e se c'è un sovrappeso è la mia prescelta perché aiuta anche a perdere peso e come sapete il peso in eccesso quando è troppo crea problemi di salute. Il prodotto che utilizzo e di cui non posso fare il nome ovviamente contiene una miscella equilibrata di micronutrienti, vitamine essenziali, minerali, elettroliti, è capace di agire come unica fonte di apporto nutritivo ovviamente per un periodo da 2-3 settimane, per il periodo in cui seguiamo questa dieta. Un'altra fase importante del protocollo di eradicazione della SIBO è il trattamento del biofilm. Il 75% delle infezioni batteriche colpisce il biofilm nel SIBO che per semplificare che cos'è questo biofilm è la casa, la fortezza che i batteri si costruiscono in cui si proteggono i batteri e le infezioni. Quindi ovviamente se ammazzo batteri ma non ritruggo il biofilm avrò facilmente delle recidive e il biofilm rende l'infezione fino a mille volte più resistente alle terapie anche antibiotiche ed è per questo che un protocollo serio e che funzioni di eradicazione della SIBO deve anche prevedere la distruzione del biofilm. Per fare questo utilizzo anche lì delle erbe specifiche che hanno ingredienti che servono appositamente a questa distruggere il biofilm e che consiglio integro insieme alle altre erbe che si occupano invece di uccidere i batteri. Un'altra fase importante è quella di sostenere la fase che io chiamo la fase 3, sostenere la digestione e la disintossicazione. Durante l'ascensione di antimicrobici è anche importante supportare la digestione e l'assorbimento dei nutrienti che prendi ovviamente dal cibo che mangi. Questo perché? Perché la SIBO danneggia il rivestimento intestinale dove avviene l'assorbimento dei nutrienti. Per questo consiglio integratori quali enzimi digestivi che ti aiuteranno a scomporre e assorbire i nutrienti dai cibi che mangi. Aggiungo anche un supporto acido di solito per aiutare a eliminare tutti i batteri cattivi che contaminano gli alimenti che mangi e che aiuta anche con la digestione di proteine e grassi. In più di solito consiglio anche antinfiammatori, per esempio l'olio di pesce, è ricco di omega 3 e quando necessario anche integratori multiminerali. In questa fase dobbiamo anche concentrarci sulla disintossicazione perché vedete la morte, quando sto eradicando la SIBO io devo ammazzare tutti questi batteri cattivi, ma la morte di questi batteri, quindi di queste colonie proliferate eccessivamente, causano un accumulo di tossine nel corpo che devono essere rimosse e che peraltro avremo dei sintomi che conterremo, quindi il protocollo è abbastanza complesso. Cerco di semplificare però. Per questo scopo utilizzo integratore a supporto del fegato che è il nostro principale organo di disintossicazione, quindi il fegato va supportato, va aiutato, integratori anche che aiutano a rimuovere le tossine e i detriti dal tratto gastrointestinale. Se c'è sitichezza inoltre deve essere risolto con assoluta priorità per evitare il riassorbimento delle tossine, altrimenti non se ne esce e il colon deve essere pulito, deve essere mantenuto pulito, pertanto utilizzo a seconda dei casi o fonti di magnesio e vitamina C e se la sitichezza è particolarmente grave consiglio anche di fare un lavaggio del colon. Alla fine del ciclo con gli antimicrobici che cosa succede? Sarà essenziale intanto ripetere il test per verificare come sta questa SIBO e se l'abbiamo eradicata e poi ci sarà la fase di ripopolazione di batteri buoni nell'intestino e dovremo anche guarire la membrana intestinale per affrontare la causa e affrontare la causa della SIBO per evitare ricadute. Una volta eliminata l'eccessiva crescita di batteri l'attenzione quindi si sposta sul ripopolamento dell'intestino con un giusto equilibrio di flora e sulla guarigione del rivestimento intestinale per sostenere la salute a lungo termine e per evitare ricadute. Per quanto riguarda l'uso dei probiotici che spesso vengono consigliati anche in fase iniziale io li uso solamente nella fase finale però anche questo è basato sulla storia personale perché a volte è veramente importante capire quando introdurli perché anche vanno considerate tante cose fra cui la tolleranza alle istamine poiché gli enzimi che degradano le istamine si trovano nell'intestino e spesso sono influenzati dalla SIBO e per questo vedete l'eradicazione della SIBO, il trattamento della SIBO è un trattamento abbastanza complesso e questo è uno dei tanti motivi per cui sconsiglio il fai da te e molti protocolli di trattamento standard della SIBO che hanno dimostrato di non funzionare perché se prendi gli antibiotici poi non fai nient'altro, non eradichi le cause e sei sempre lì, non risolverai. Ci sono davvero troppe variabili, è una costante necessità di rivedere e perfezionare anche un approccio che è comunque personalizzato. In linea generale comunque i probiotici e i ceppi di probiotici più benefici per la SIBO sono i bifidus infantil, bifidus lactis e lactobacillus plantarum presi singolarmente o in combinazione, in generale alla fine quando abbiamo eradicato i batteri in eccesso. Probiotici ripeto, io la faccio in fase finale, tra l'altro la faccio in maniera oculata anche gradualmente perché vanno trovati i ceppi migliori da casa a casa per evitare di aggravare i sintomi perché a volte i probiotici quando si ha la SIBO, se presi all'inizio soprattutto, possono aggravare anche i sintomi e far restare peggio. Attenzione anche quando acquistate i probiotici perché molti probiotici contengono sostanze quali tapioca, lattosio, fecola di patate, inulina, maltodestrine e pectina che possono aggravare anche lì i sintomi. Quindi attenzione fatevi consigliare dal vostro medico, naturopatone, insomma da chi vi segue, un probiotico adatto per voi. Con l'introduzione dei probiotici, quindi verso la fine del protocollo, consiglio anche la reintroduzione delle fibre e degli alimenti prebiotici che aiutano a ripopolare il microbioma intestinale. I prebiotici sono tra gli ultimi alimenti che inserisco perché se hai ancora crescita eccessiva di batteri la maggior parte dei prebiotici aggraverà il problema, ti aggraverà i sintomi perché i prebiotici sono il carburante che alimenta batteri. Meglio evitare quindi verdure crude, come ho detto all'inizio, porri, aglio, cipolla che sono esempi di cibi ricchi di prebiotici, ma ce ne sono altri. I prebiotici come i probiotici si reintroducono gradualmente e anche in questo caso devono essere considerate le individuali intolleranze del paziente. Entrambi vanno reintrodotti tuttavia, anche se con cautela, perché hanno un ruolo importante nella guarigione dell'intestino della permeabilità intestinale che si è danneggiata a causa della SIBO. La guarigione dell'intestino però è fondamentale per evitare recidive e per questo il protocollo deve essere eseguito con scrupolo. Una delle parti fondamentali del protocollo SIBO è la ricerca delle cause per non avere ricadute e recidive. Purtroppo la SIBO è associata a ricadute croniche se le cause non vengono trattate e le cause vanno quindi indagate prima e rimosse. Guarire quindi l'MMC che abbiamo detto all'inizio è cos'è la motilità dell'intestino tenue. In questo caso andrà utilizzato un procinetico naturale che stimola il movimento dell'intestino tenue o la SIBO si ripresenterà a breve. Questo viene fatto ovviamente alla fine del trattamento con gli antimicrobici e dopo che abbiamo fatto il secondo test per essere sicuri che la SIBO non ci sia più. Il procinetico deve essere continuato di solito per sei mesi anche dopo la guarigione anche se i sintomi sono scomparsi per evitare ricadute. Per ogni causa il tuo medico dovrà essere in grado di elaborare una soluzione e sarà una soluzione specifica ovviamente per le tue condizioni specifiche. Tra i suggerimenti generici potrebbe aiutarti a aumentare l'acidità dello stomaco, consigliarti di evitare esercizio fisico in eccesso, di ridurre lo stress, sicuramente affrontare i problemi strutturali come eventuali aderenze della valvola iliocecale. Parliamo di prevenzione. Per evitare ricadute la fase di mantenimento dopo l'eradicazione della SIBO dovrebbe durare tra sei e dodici mesi. Non lasciatevi andare quando avete risolto i sintomi. Dopo sei o dodici mesi, dopo il completamento degli antimicrobici naturali e un nuovo test che non presenti aumenti di idrogeno o metano. Se i sintomi dovessero ripresentarsi potrebbe essere opportuno rifare il test o anche affrontare l'eventuale presenza di batteri, lievito e muffe nell'intestino crasso oppure infiammazioni dovute a sensibilità alimentari specifiche. Ricordate sempre che i sintomi sono segni di un qualche squilibrio nel corpo e che non devono essere ignorati ma guariti. Spero sinceramente che questo video ti abbia aiutato, vi abbia aiutato a capire un po' meglio la SIBO e perché magari state male e non lo sapete e vi abbia dato la sicurezza necessaria e la fiducia necessaria per affrontare il viaggio verso la guarigione. La guarigione è davvero un viaggio che richiede pazienza, disponibilità, intenzione e volontà. Insieme alla presa di coscienza, e questo lo dico sempre, che la salute è principalmente nelle tue mani e che dovrai considerare di cambiare stile di vita se quello che hai ti porta a stare male. Se ti senti pronto per iniziare questo viaggio vai alla pagina contatti del mio sito www.medicinanaturale.it scrivimi o chiamami e scopri come lavoro sia in studio che in telemedicina, quindi online, se non abiti a Roma, per trattare la SIBO e altre cause profonde di molti disturbi intestinali e malattie in genere. Se hai trovato questo video interessante, condividilo per favore con altre persone cui potrebbe essere utile. Grazie, a presto con un altro argomento. Buona serata. Grazie, a presto.